Camilla Canepa Quanto tra pera tutte le persone sentite hanno riferito di come in ospedale fosse stato riferito che Canepa avesse ricevuto il vaccino, eppure stando alle indagini questo particolare non è stato annotato nella cartella clinica sequestrata. Il personale sanitario dell'ospedale di Lavagna sapeva che Camilla Canepa, la diciottenne di Sestre Levante, morta dopo vaccinazione, aveva fatto una dose di AstraZeneca. E' quanto emesso dalle audizioni dei medici fatte dai pubblici ministeri Francesca Rombolà e Stefano Puppo, insieme al procuratore Francesco Pinto, che indagano sulla morte della studentessa avvenuta il 10 giugno scorso per una trombosi. La giovane era stata vaccinata durante un open day. I PM avevano convocato i sanitari per verificare come mai nella documentazione clinica del primo ricovero non fosse stato indicato che la giovane aveva ricevuto il siero anglo-svedese. Secondo i genitori della ragazza, al momento del primo accesso era stato detto. Inoltre, dalle indagini era emesso che Camilla mandò un messaggio sul telefono cellulare ad un conoscente dicendo che la stavano trattenendo in ospedale per il vaccino. Resta però il giallo sul perché non sia stato scritto nella cartella clinica. Un dettaglio cruciale è quello della mancata indicazione della vaccinazione anche per il supplemento di indagine chiesto al medico legale Luca Tajana e dal ematologo Franco Piovella. I magistrati invieranno ai consulenti quanto emesso dalle sommarie informazioni dei medici. Camilla era stata vaccinata il 25 maggio del 3 giugno. Era andata all'ospedale di Lavagna per una fortissima cefalea e fotosensibilità. La giovane era stata rimessa all'indomani dopo un'attacca senza contrasto nonostante le piastrine fossero in forte discesa. Era ritornata allo stesso ospedale il 5 giugno in condizioni disperate per una trombosi al seno cavernoso. Trasferita al Policlinico San Martino di Genova era stata operata la testa ma morì il 10 giugno. Nel secondo accesso all'ospedale di Lavagna la vaccinazione era stata indicata. A maggio esistevano già le prime linee guida per diagnosticare la VIT, la sindrome da vaccino appunto, che prevedevano di procedere con un attacca con liquido di contrasto tra gli accertamenti. Dopo l'annuncio dei 22 esuberi dato dall'azienda, i lavoratori della Ilex hanno scioperato questa mattina. Con i sindacati hanno organizzato un presidio nel cortile della fabbrica di San Pio di Canne a Chiavari. Mi auguro che durante le trattative prevalga il buonsenso e si possa trovare una soluzione condivisa. Da parte nostra c'è massima disponibilità per trovare delle misure conservative, ma temo che alcuni esuberi debbano essere messi in conto. Così Paolo Paiadi, vicepresidente a Elex Italia, spiega la posizione dell'azienda specializzata in alza cristalli per auto, che ha annunciato ai sindacati un piano di contenimento dei costi che prevede un esubero appunto di 22 lavoratori su 240. Ieri si è tenuto un incontro in Confindustria con i sindacati che hanno ribadito la loro contrarietà ai licenziamenti. La Lames, attuale a Elex al momento dell'acquisizione da parte dei giapponesi, era inconcordato fallimentare, ricorda Paiadi. E questo ha pesato su quello che poteva essere la nostra manovra nel reperire commesse. Inoltre, per il 2022 avevamo stimato un fatturato di 70 milioni, previsione che, a causa degli effetti del Covid, calo di produzione e carenze di materie prime, microciple su tutti e sul ritardo della messa in produzione dei nuovi modelli di Alfa Romeo e Maserati, per cui abbiamo commesse importanti, abbiamo dovuto ribassare a 40 milioni. Oggi si sono svolte tre assemblee nello stabilimento di Chiavari, una per ogni turno e un'ora di sciopero. Il confronto tra le parti è appena iniziato. L'azienda non ha ancora inviato lettere a nessuno, conclude Paiadi. Mi auguro che nei prossimi giorni si possa ragionare insieme alla RSU senza rigidità da parte di nessuno e si possa trovare un accordo che vada bene per tutti. Attimi di panico a Rapallo per un agente di polizia locale rimasto agganciato ad un'automobile in fuga nel tentativo di disinserire le chiavi del cruscotto. È successo questa mattina nella centralissima piazza Cavour, dove un uomo originario di Frosinone ha lasciato il suo veicolo, una Nissan bianca, in divieto di sosta in mezzo alla strada. Gli agenti della polizia locale intervenuti lo hanno sanzionato e hanno chiamato il carroattrezzi. Il proprietario del mezzo, raggiunto all'auto, si è opposto alla rimozione ed è partito a tutta velocità rischiando di investire una vigilessa. Il collega della donna ha inserito il braccio nel finestrino e, mentre l'auto lo trascinava, ha cercato di togliere le chiavi. All'interno dell'abitacolo c'era anche il titolare del carroattrezzi che contestualmente azionava il freno a mano per arrestare la corsa. Per fortuna la reazione irrazionale dell'uomo non ha avuto conseguenze per gli intervenuti, mentre per l'uomo è scattata una denuncia per lesioni e una serie di sanzioni legate alle infrazioni al codice della strada commessa. Non accenna a placarsi la polemica tra maggioranza e minoranza sulla vicenda della causa intentata dal funzionario della sovrintendenza Nadia Campana per il cartello affisso in via del Pino a Chiavari in occasione dei lavori di polizia dei canali che la accusava di far ritardare l'opera. Secondo la giunta comunale, la comunicazione del prelievo dal fondo di riserva per far fronte alla causa è stata regolarmente comunicata e i consiglieri comunali di opposizione all'epoca non obiettarono nulla. Se si dissociano dall'operato da Palazzo Bianco però si dissociano da responsabilità che non hanno e che non possono avere, visto che il consiglio comunale di Chiavari non è assolutamente competente in merito ad atti di tipo gestionare che spettano alla giunta e ai dirigenti. Non si è fatta attendere la replica di Silvia Garibaldi, Daniela Colombo e Giovanni Giardino. Suggeriamo, dicono, al presidente del consiglio maggiore attenzione. Le delibere di giunta in questione sono andate nell'ordine del giorno sorvolando il tema trattato. La biglietteria della stazione ferroviaria di Santa Margherita Rigole chiuderà per lavori nelle intere giornate di mercoledì 2 e giovedì 3 febbraio. Per lo stesso motivo la stessa biglietteria sarà chiusa anche martedì 1 febbraio dalle 9 alle 20 e nelle giornate dal 4 al 10 febbraio dalle 8 alle 17. Trenitalia fa sapere che saranno attivati i presidi aggiuntivi di assistenza e supporto all'acquisto presso le biglietterie self-service della stazione ferroviaria San Margheritese in tutte le fasce rarie giornate di chiusura dello sportello. Il bollettino diffuso oggi da Regione Liguria registra 551 nuovi casi di persone positive al coronavirus nel Tiguglio dove i ricoveri sono 40, 7 in più rispetto alla giornata di ieri, 35 a stesse levante e 5 a lavagna, uno dei quali in terapia intensiva. In ASDEL 4 infine le soveglianze attive sono 1.349. Vengono segnalati purtroppo anche 9 decessi in totale in Liguria tra i quali quello di un 82enne avvenuto ieri all'ospedale di Sestri. Sempre in Liguria in totale sono 5.388 nuovi casi di persone positive al covid su un totale di 29.603 tamponi processati. Le guarigioni sono 4.420, il totale dei attualmente positivi sale così a 62.782. I ricoveri in Liguria sono 757, 26 meno di ieri con 40 pazienti in terapia intensiva, 26 dei quali non vaccinati. Anno nuovo, tempo di bilanci per la polizia locale con il consueto report dell'attività svolta nei 12 mesi precedenti. Ieri infatti nel salone di rappresentanza a Palazzo Tursi si è tenuta la conferenza stampa, dove è stato esposto il report di incidentalità nel 2021 della polizia locale. Sono intervenuti l'assessore alla polizia locale e alla sicurezza Giorgio Viale, il comandante della polizia locale Gianluca Giorato. È emerso che durante il 2021 i sinistri mortali e conferiti sono calati. Se il numero complessivo dei sinistri è pressoché in linea con gli anni precedenti, fatta eccezione per il 2020, durante cui il periodo di lockdown ha comportato una netta riduzione della circolazione veicolare e quindi dei casi di incidente, i sinistri invece conferiti ammontano a 3.350 nel 2021, contro i 3.706 nel 2019, i 3.976 nel 2018 e 4.046 nel 2017. Numeri significativi, dichiara Gianluca Giorato, comandante della polizia locale di Genova, che specifica quanto il potenziamento di controlli, ma anche e soprattutto di insinative di prevenzione e sensibilazione abbiano dato buoni risultati. Ecco invece le parole dell'assessore alla polizia locale Giorgio Viale. Innanzitutto non è certamente solo un successo, ma comunque continuiamo purtroppo a registrare dei numeri piuttosto elevati e quindi il nostro impegno deve continuare. Diciamo che tra il 2017 e il 2021 abbiamo riscontrato una netta diminuzione di alcuni fenomeni, come ad esempio i decessi a seguito di incidenti e soprattutto una netta diminuzione delle terapie intensive a seguito di incidenti. Questi cali sono frutto di una serie di controlli e di atti soprattutto di prevenzione che quindi ci portano ad avere delle strade più sicure. Questo però ovviamente non è solo il risultato appunto di alcune campagne, ma è anche una certa focalizzazione della nostra polizia locale che passa da effettuare dei controlli diciamo molto semplici e quelli sì magari volti a fare cassa, cioè la semplice sosta a chi appunto si ferma al lato della strada, ma invece si stiamo concentrando su determinati comportamenti alla guida che appunto possono provocare incidenti, come ad esempio la guida sotto effetto di alcolici o l'omissione dell'uso delle cinture di sicurezza e addirittura del casco in alcuni casi per i motociclisti. Quindi insomma una politica della nostra polizia locale volta soprattutto alla sicurezza stradale e ovviamente alla sicurezza in senso lato e quindi ovviamente questa politica sta portando i suoi frutti e i frutti sono appunto meno morti, meno feriti sulle nostre strade che sono un costo sociale e anche diciamocelo familiare in alcuni casi molto molto elevato e che quindi riusciamo a risparmiarci e di questo dobbiamo essere certamente fieri. Il sindaco ha emesso un'ordinanza a favore dei cittadini che questo è quello che succederà tra poco. L'informazione locale che entra nelle case grazie alle televisioni locali scomparirà. È una decisione della politica che nonostante gli interventi di alcune associazioni di categoria non è ancora intervenuta per modificare alcune norme che potrebbero permettere alle oltre 500 emittenti televisive di continuare la loro opera di informazione. Per questo gli oltre 5.000 lavoratori del settore chiedono una firma, una firma per una petizione per salvare e mantenere in vita la tua televisione locale. È semplice e non costa nulla. Da pc o telefonino. www.reasat.eu avrai contribuito a mantenere la tua informazione locale. Grazie. Quanto è difficile alle varie montagne? È difficile perché in aggiunta a tutte le complicazioni che vanno dietro all'allevamento se ne continuano ad aggiungere delle nuove. Adesso abbiamo l'esempio della peste suina che è arrivata tramite cinghiali, ma il fatto è che da quanti anni è che noi agricoltori denunciamo il fatto di questo sovrappopolamento di cinghiali? Come ci sentiamo abbandonati perché adesso le complicazioni escono tutte a noi, chi ha il semibrado come me e altri allevatori escono nuove normative alle quali non è facile stare al passo e comunque si aggiungono altre spese. Non è una cosa giusta, mentre invece cinghiali c'è pieno, già ad esempio chi coltiva come me e deve recintarsi patate, chi grano, chi mais, a spese proprie perché ad esempio ho dieci batterie accese nel periodo tra aprile e ottobre che sono un costo e in più la manodopera per fare tutti i recinti e ci dobbiamo sempre arrangiare. Poi adesso si è aggiunta questa cosa della peste, quindi avendo i maiali è un problema, stanno bloccando entrate e uscite dagli allevamenti e quindi è un bel problema. Quindi adesso cosa dovete fare con i capi che avete? Loro ci dicono di abbatterli il prima possibile, soltanto che anche per una questione di smercia non è che li puoi abbattere tutti insieme perché non è una scatola che la metti lì da parte e la lasci lì. Si va incontro a salumi, carne, roba che deve essere fresca. Ma la teoria è che bisogna usare la mela a malcia nella cassetta non sarebbe meglio? Sarebbe meglio sì, in questo caso basterebbe eliminare i capi di cinghiali ma non andare a caccia una volta alla settimana, andare a aprirla più volte alla settimana, i capi fatti analizzare e mandati allo smaltimento eccetera e poi sapranno loro quello che va fatto. La soluzione sarebbe quella lì, invece attaccano noi con i maiali, forse anche chi avrà i bovini verrà bloccato, speriamo di no e i cinghiali girano liberi come prima. Ci troviamo col dottor Luigi Marco Tiscornia, presidente nell'ambito territoriale della caccia. Vorremmo sapere da lei qual è il ruolo dei cacciatori in questa lotta contro la peste? Allora noi ci è stato chiesto dall'unità di crisi a cui ho partecipato questa settimana a Genova, già prima ne abbiamo fatto un'Alessandria, di formare dei gruppi di 3-4 persone e andare a ricercare sul territorio dei comuni inseriti nella zona infetta le eventuali carcasse di cinghiali morti. Questo perché è importantissimo, innanzitutto per delimitare quella che è l'area, la vera area infetta al di là di quella che è stata provvisoria perimetrata dal Ministro in via precauzionale e poi perché prima vengono tolte le carcasse dal territorio, prima si toglie una fonte di inoculo perché questo virus purtroppo è molto resistente e specie nelle stagioni invernali in cui è freddo c'è stato spiegato dagli esperti che può rimanere attivo anche 5-6 mesi, quindi è importantissimo geolocalizzare le carcasse, poi le persone esperte competenti verificano, prendono gli organi per verificare l'eventuale positività e poi esportare la carcasse. Aver tolto la guardia provinciale con cui voi avete sempre collaborato per il controllo della diffusione dei cinghiali è stato un errore? Sarà una combinazione o è stato un passo negativo? Ma a prescindere da quello che penso io, nel senso che secondo me aver tolto il presidio sul territorio è secondo me è stato togliere qualcosa, a prescindere. Per quello che fino adesso si sa e ho sentito nelle varie entrate crisi in cui sono stato, probabilmente non è stato il presidio del territorio, ma è stato il fatto che la peste suina è in Europa, specie nell'est Europa, ormai è endemica, quindi essendo un virus molto resistente che rimane nei cibi, nel tutto, la fonte di propagazione poi sono molteplici e con la mobilità che c'è adesso è molto probabile. Ovvio poi che ovviamente essendo la popolazione cinghiale, specie nella nostra regione, molto importante, ovviamente la possibilità poi di contagio si moltiplicano, ma il fatto che non ci sia stato il presidio del territorio non è secondo me la causa, ovviamente più il territorio è presidiato per una serie di motivi meglio è. Un'ultima domanda, quando toglieranno il divieto di caccia? Dobbiamo chiederglielo. Ma adesso la caccia comunque il 31 di gennaio chiude, quindi a tutti i modi sarebbe fermata e riprenderà a ottobre. Io spero veramente, ma non solo per la caccia ovviamente, ma perché stiamo parlando di un settore che è importantissimo per l'Italia, spero che per quella data la crisi sarà superata e questo virus sarà stato eradicato. Ce lo auguriamo veramente tutti.